Biccio! Ciao! Ciao il Biccio! Stai tutti insieme! Su! Spogoliamoci! Su! Uno, due, tre! Come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Tutto ok? Ciao, sono il Biccio! Cioè, mi piace far da rida! Ti hanno già proposto qualche contratto per villaggi vacanze? Magari, ma anche per le case mazze vacanze! Oh! Ma quanto da ridere mi passo! Sì, certo! Rapatelli! Ma chi è questo? Non lo so! Ah, non lo so! Allora! Quante barzellette ho? Sì, lo sappiamo! Du Mila! Du Mila, sì du Mila! Ve le diso! Beh, non du Mila! Ha capito ve le diso eh! Dai, ve le diso! Vai, vai, vai! Allora no! È uno no! Sì! Va! Va a cercare lavoro! Un giorno sono qua per cercare lavoro! Come si chiama? Mirko! Eh Mirko con la C o con la K! Ho detto! Con la M! Se no me c'è Maria Circo! ROTOLO! Sì! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Mi fai fatto l'esercizio di matematica, no? Sì! Eh, perché non sarei mai giusto! Eh, ma è Marco Proga! Ma quanto da ridere che mi fa ogni 7-8 giorni! Sì! Le barzellette dei carabinieri! Sì! Dai, mi faccio parla! Vabbè, dai! Se tu sai, mi fa! Sì! Faccio parla! Vabbè! Me ne conto du tri! Vai, vai, vai! Sì! Oh, ragazzi! Ducarabinieri, no! Sì! Ducarabinieri, no! Senta cos'è? Ducarabinieri, no? Che arriva in Casarva con una foca, no? Con una foca! Che dì? Ma che tasta bestia qua? Cosa chiamo da fare? Ma che dì? Ma che dì? Come cosa chiamo da fare? Portila al circo? Vabbè, le loro porta al circo, dopo un'ora il torno e gli dì? Oh! Ma ti siamo stavano un'ora al circo, ma la sa mia goduta, la sa femmola, la portiamo al cinema! Rappatini! Rappatazzi! Rattatelli! Sì, vabbè! E un carabiniere, no? E un carabiniere, no? E un carabiniere, no? C'è lì che fa le parole cruciate, no? Eh, sì! Due lettere verticale, sei romano! E un carabiniere, no! Rattatini! E Toni? Toni non ha mica capito, eh! E sei per carabiniere, no? Marescialo? Sì, sì! Ma qua, per fare un po' di spazio, posso bruciare le pratiche invece? Eh! Bella idea! Ah! Però prima, fa le fotocopie! Rattanni! Rattanni! Sottolini! 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 Dica, dica! Mi fa spogolare quelli dei carabiniere! Tu carabiniere, no! Oh, ma perché te gratito la testa senza cavarti al cappè? Eh! Ma che ti conta che spira il cappè? Ti capito le braghe! Questo era da Rattatelli! Vabbè, questo era da Rattatelli! Rattatelli! In una caserma de gazzo, no? Nella balsa, no? Sì, gazzo! Nella caserma de gazzo, a un certo punto, no? A una data, a un certo punto arriva un uomo, no? Sì! A cavallo, no? Tutto vestito di nero, no? Un colasetto del rio al mantello, no? Sì! E arriva e che lascia l'indelinquente tutto legato, no? Eh! A un certo punto viene fuori il carabiniero di banda che dice A grazie, Superman! A grazie, Sveta! Sì! La signora, no? Sì! La monta sul taxi, no? La monta sul taxi, che fa Oh, mi raccomando! Il farsa tensione era che a casa con un desfioi! C'altro si dice che fa Ah, son me quei che aveva a fare tensione! Allì! Ratozzi! Rappatai! Oh, che sempre in alto, no? Ancora! Che monta sul taxi che fa Oh, dite! Ascolta quanto costa una corsa! Insomma, dipende dal tempo! Eh, sì! Mi temo che piova! Quanto costa! No, no! Non in questi ma... Ramalli! Ramalli! No, no! Rattatalli! Ma con chi parli? Con patarazzi! Eh, beh! Tutto! Sì! Son proprio convinto di essere un cane! Ah, sì! Ma da quanto è che te hai questo disturbo qua? Eh, da quando sarà cucciolo! Non ho parole, sì! Quelle dei dottori le mi fanno! Vabbè, dai! Andiamo... Cosa le mi fanno quelle dei dottori? Sbogolà! Va bene, dai! E il dottore è il maito che cosa smetta di giugare a ballon! Perché te lo cattà qualcosa di grave! No, non mi ha visto giugare! Rappatelli! Ora che è un dentista, no? Sì! Tendri a compilare la cartella clinica del nuovo paziente, no? Sì! E che domanda? Apparecchio? No, no, grazie, appena finire mai! Rattatalli! Rattatelli! Dottore! Dottore! Bisogna che a me prescrivano parte o c'hai! Ah, questo lo è sicuro, te sei entra in macelleria! Rattatelli! In collaborazione con... Roldo e Carrozzeria Verona VadoSicuro Mototaxi I Fattorini di Verona Airforte La fa il punto zero serramenti Rattelli! Rattelli!